La sottile linea che separa la realtà dalla finzione, la verità dalla menzogna, la parola dal silenzio e il visibile dall'invisibile e ancora la paura dal coraggio e in definitiva la scelta di rimanere o lasciare la patria. Il tutto rintracciato in un cinema di confine e sul confine, simbolo e sintomo di un paese e di una situazione esistenziale e politica il cui attraversamento si compie filtrato dallo sguardo resistente Jafar Panayi, altrimenti impossibilitato a valicarlo di persona, essendo tuttora incarcerato e da anni ufficialmente non autorizzato a girare film per divieto del regime islamico d'Iran. Ma è evidente che il cineasta iraniano non abbia nessuna intenzione di arrendersi, perdurando l'utilizzo del dispositivo metacinematografico quale sostanza della sua protesta politica e civile. Del resto, la sua posizione è espressa con chiarezza dai personaggi del suo nuovo film, che è la nostra paura a dare il potere a che ci nega la libertà. Dramma di doppia ambientazione in cui Panayi stesso incarna il ruolo di un regista, Kers Nist, ovvero Gli orsi non esistono, mette in scena le riprese di un film presso una città turca ai confini con l'Iran, diretto in remoto via computer dal cineasta, che si trova in un villaggio montano di poche anime, presso la frontiera tra i due stati. Le difficoltà crescono con lo scorrere del tempo, dentro e fuori le riprese del film e nel film, laddove una coppia di aspiranti esuli soccombe davanti all'autorità e implode nella menzogna, mentre al di qua del confine Panayi si trova ad affrontare le diatribe ancestrali di un villaggio arcaico meschino, ancora timoroso della superstizione. I film narrativi sapientemente congegnati dal regista, anche autore di soggetto e sceneggiatura, arrivano a confluire in una spirale disperata e disperante di risoluzione, se non, e qui sta la grandezza dell'opera, unicamente attraverso la forza delle immagini, sia fotografiche che cinematografiche, in cui Giaffar Panayi continua a credere, perché anche mentire sotto giuramento va bene se porta alla pace.